L'Anciais di Sareno guidata dal presidente russo, interlocutore unico della regione Campania per i progetti finanziati nell'ambito della cosiddetta accelerazione della spesa nella provincia di Sareno. L'impegno assunto dalla nuova governance dei costruttori salernitani è stato mantenuto. Facendo seguito così alle comunicazioni dei mesi scorsi, il presidente dell'Associazione dei Costruttori ha centrato l'obiettivo concordando con i funzionari della regione Campania l'attivazione di uno specifico sportello di servizio presso la sede del Lanciais di Sareno sul corso Vittorio Emanuele dove verranno comunicate e segnalate agli uffici della regione le pratiche pervenute direttamente dai comuni e dalle imprese appaltatrici al fine di consentire in tempi brevissimi la liquidazione degli stati d'avanzamento dei lavori in corso. In provincia di Sareno sono oltre 200 i progetti finanziati nell'ambito della cosiddetta accelerazione della spesa con 98 cantieri aperti ed un impegno di risorse pari a circa 200 milioni di euro. L'erogazione dei fondi europei 2007-2013 non avendo ricevuto ulteriori proroghe dalla comunità europea sono, come è stato più volte sottolineato, a forte rischio per molti comuni salernitani ed in alcuni casi la mancata erogazione potrebbe comportare conseguenze disastrose sui bilanci degli enti qualori i lavori non saranno rendicontati entro il termine del 31 dicembre 2015. Purtroppo c'è una norma, c'è un articolo del decreto di finanziamento che la regione campania e quindi la precedente gestione della regione ha messo all'interno di questo decreto nel momento in cui i comuni non riuscivano a terminare queste opere il 31 dicembre si impegnavano loro a pagare di tasca propria questi lavori eseguiti. Questa è una cosa che è assolutamente improponibile perché i comuni non hanno la capacità finanziaria e quindi sarebbe il tracollo delle imprese, dei comuni e ahimè delle maestranze. Lancia e Aies di Salerno guiderà così una vera e propria task force che avrà il compito di agevolare e accelerare le pratiche per tentare di salvare imprese, maestranze e comuni che rischiano il tracollo. L'impegno che la regione campania e l'invito che fa di spendere e quindi di dimostrare quanti più lavori possibili entro il 31 dicembre. Le stime ad oggi, lo ricordo, sono 1,4 miliardi di euro per l'intera regione campania, per i fondi PON 2007-2013 di cui stiamo parlando. Di questi 1,4 miliardi le stime sembrerebbero essere attendibili intorno a un 30-40% di spesa. Noi certamente l'invito che facciamo alle imprese comuni di spendere il più possibile in questi ultimi due mesi, quindi di accelerare i lavori perché i fondi sono già disponibili in regione campania. Quindi, ripeto, accelerare i lavori, mandare a noi tutta la dimostrazione, quindi le fatture di stati di avanzamento affinché noi li possiamo inoltrare alla regione che si è impegnata a pagare entro il 31 dicembre. Quindi lo spauracchio sicuramente lo possiamo dire che è scongiurato e quindi saranno sicuramente pagati i lavori con i fondi comunitari fino al 31 dicembre. con altri fondi di finanziamento, quindi personale, della regione campania che faranno fronte ad altri capitoli di spesa per i lavori che eventualmente si faranno poi successivamente.